E' stato un vero e proprio incontro generazionale quello tra alcuni studenti delle scuole superiori a retina e Roberto Vacca, ingegnere matematico, scrittore e soprattutto novantenne in splendida forma. Al teatro basariano venerdì mattina si è parlato dell'elisir di lunga vita, dei problemi legati all'invecchiamento ma anche di anzianità attiva nel corso dell'incontro organizzato dall'associazione degli over 50 della Confcommercio in collaborazione con il provveditorato della scuola. Ci sono le cose ragionevoli da fare e chi fa cose ragionevoli spesso campa anche di più. Lì ovviamente c'è una componente genetica che è ineluttabile. I nostri geni non li possiamo scegliere, ce li abbiamo già in avvenire, forse potremmo modificarli, però le buone abitudini è consistente di stare con gli occhi aperti, nell'occuparsi di cose interessanti, non occuparsi di cose banali e non perdere tempo con le stupidagginette è un modo per restare vivi in modo più interessante. Con i giovani Roberto Vacca ha parlato in particolare di teorie della conoscenza, ossia come in un mondo pieno di informazioni spesso caotiche a volte false ci sia bisogno di affinare il nostro spirito critico. La quantità di messaggi che ci arriva, spesso anche mal espressi, senza numeri, con parole messe senza arte e con immagini che aiutano molto poco, sono una congerie di rumore che ci arriva e che ci impedisce di capire come ha fatto il mondo e perciò dobbiamo andare a cercare quelli che hanno capito di più e leggerli e ragionarci sopra. Grazie a tutti.